Allora, cari amici, oggi parleremo di cose estremamente importanti e utilizzando un paio di riviste, di periodici, cercheremo in tutti i modi di farvi capire che abisso di incongruenza, illogicità, sopraffazione, noi siamo arbitrio assoluto sotto forma di un'altra cosa che è un problema di democrazia, un nome che non significa un caso, il problema della società attuale è che c'è una dicotomia totale tra parola e concetto, parola ed azione e quello che il Parlamento di oggi in realtà è veramente… il signor Renzi ieri ha detto che il Parlamento sta facendo la sua parte di sacrificio, parlando a vanvera, non ha idea di cosa sia il sacrificio signor Renzi e il Parlamento, ma quello è un pallonaro allo Stato primordiale, un cretino a trabiliare, il perfetto idiota, il quale parla bla 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 come per sentito dire oltretutto, allora tutte le promesse che fa, diciamo questo ai nostri amici, che generalmente l'operazione delle parole dette ad arte, lui parla di mille giorni, mille giorni nell'immaginario, quando tu ricevi la parola mille giorni tu vedi una U, uno, un uno con tre zeri, ma lo percepisci come cento giorni, è diverso se tu dici invece tre anni, tre anni, allora dici io devo fare le riforme in questi mille giorni perché sennò oltre i mille giorni… Ma si vede le riforme che aveva promesso che rovesciava il mondo in cento giorni, ti ricordi? Un cazzo? Un cazzo, allora vediamo noi e incominciamo con questa… questa è la rivista di emergency, sì? Allora leggiamo quello che c'è scritto qua, questa dichiarazione dei diritti dell'uomo? Esattamente, dichiarazione alla quale nessuno si attiene. Beh noi abbiamo fatto la denuncia al Tribunale di Roma, al Tribunale Penale dell'AIA, sulla Convenzione di Roma e dove ci hanno detto non so cazzi, fatevi fare dati, non so cazzi no. Allora comunque lo leggiamo perché è su questo principio che si basano le iniziative veramente ammirevoli di amnesty. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Riconoscere questo principio costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace del mondo. Infatti chi non riconosce questo diritto è ovviamente antidemocratico, nazionalista allo Stato puro, racista, sopraffazzatore, imperialista, guerra fondaia, è quello che sono gli Stati Uniti. Che vanno a liberare i popoli con i cararmati e le bombe nucleari. Uccidendo i popoli, le libera dal peso della vita. È bello quest'altra cosa, nel 2002 l'Italia è fuori dalla guerra. Allora questa è stata un'iniziativa, la leggiamo, era l'autunno del 2002. Ancora una volta la guerra sembrava una scelta inevitabile. L'Iraq era il nemico numero uno, le inesistenti armi di distruzione di massa erano presentate come una minaccia alla sicurezza dell'Occidente e l'Occidente si preparava a un'altra campagna militare nella regione. Fuori d'Italia dalla guerra, era questa la richiesta di emergency, poneva al governo italiano e a tutti i cittadini con una mobilitazione imponente che ebbe il suo cummine il 10 dicembre 2002. Nell'anniversario della dichiarazione universale dei diritti umani più di 250 fiaccolate e 300 mila persone si riversarono nelle strade di tutta Italia mentre stracci bianchi e bandiere arcobaleno sventelavano alle finestre. Io me lo ricordo benissimo che ci abbiamo partecipato. E poi centinaia di assemblee nelle scuole, le adesioni di diecine di comuni, province e regioni e 500 mila firmi in calce. Quando una parte della sinistra e una parte dei sindacati ancora erano puliti. Una piccola parte ma è sufficiente. All'appello fuori d'Italia dalla guerra sul sito di Emergency. Vogliamo un mondo basato sulla giustizia e sulla solidarietà. Ripudiamo la violenza, il terrorismo, la guerra come strumenti per risolvere le contese tra gli uomini, i popoli e gli stati. Chiediamo che l'Italia di fronte alla minaccia di un attacco militare contro l'Iraq non partecipi ad alcun atto di guerra nel rispetto della Costituzione. Non vogliamo essere corresponsabili di nuovi lutti, né vogliamo alimentare la spirale del terrore. Basta guerre, basta morti, basta vittime. Emergency consegnò il testo dell'appello e le firme raccolte ai Presidenti della Repubblica e del Consiglio di Camera e Senato e dei gruppi parlamentari contro la volontà di tanta parte del paese. Il 15 aprile 2003 il governo otterne il voto favorevole del Parlamento alla missione umanitaria d'emergenza in Iraq prima ancora che il Consiglio di sicurezza dell'ONU adottasse la risoluzione 1483. Ecco che cos'è il governo italiano. Un governo e un Parlamento giustamente a fine ottocento ci fu un autore, lo faremo vedere fra qualche giorno, un'altra prossima intervista, che scrisse un libro molto importante intitolato I moribondi di Montecitorio, dove dice esattamente le cose che diciamo noi oggi. È passato un secolo che abbiamo usato. Lì è un alveare dove vengono inseppate le teste di minchie, vengono selezionate le teste di minchie. I ministri attuali. Sì appunto, il ministresse attuale è una meraviglia. Io le vedrei bene, non ministresse, ma metresse. Metresse di qualche bel bordello. Sì, non è facile fare la metresse, bisogna essere esperti. Imprenditrici di se stesse. Non sono all'altezza della situazione. Le vediamo anche dalle facce, se capisci tutto. Emergersi consegnò quindi il testo. Una come Rosi Bindi emergerebbe. Ah beh sì, Rosi Bindi è una meraviglia. Quando un certo giorno si arrabbiò, diventò tutta rossa in un dibattito con Berlusconi e dice io non ce sto, certo che non ce stai fa schifo, lui era abituato con quelle ragazzotte, capito? Alla ricerca di un po' di notorietà. Migliaia frotte arrivavano sul suo letto, capito? E lui non sapeva come fare a chi dare letto, capito? Manco fossero pulci e ti immagini prendiamo in considerazione a Rosi Bindi. Ricordiamoci sempre, più bella che intelligente. Lei ha fatto un'uscita qualche giorno fa a proposito delle ministre che ha girato ultimamente. In tutte i video. No, no, che lei diceva che sono belle, brave e intelligenti. Intelligenti. E ballavano bene. Sì, come quando c'era... No, ma bello è che le ministre se ne sono risentite. Certo, certo. E te lo dice lei. Anch'io, io al minimo gli toccherei i coglioni. Poi dopo, vediamo. Mi ricorda quella frase tipica degli ufficiali che vanno a sentire, che vanno a assaggiare il pasto, no? Bello e sufficiente. È abbondante. È abbondante. Allora, fermiamo la guerra, fermiamo la pace. Il ripudio della guerra è un principio fondamentale della Costituzione italiana ed è sancito dall'articolo 11. Attenzione, non solo da questo punto di vista il Parlamento italiano è andato contro la Costituzione, ma come noi abbiamo denunciato di recente la stessa operazione che ha fatto l'amministrazione comunale di Roma, che si è arrogata il diritto... Che non le competeva, assolutamente. Assolutamente, di autonominarsi amministrazione della città metropolitana. È la stessa cosa concettualmente di questo, lo stravolgimento totale della Costituzione. Allora, lo facciamo presente ai nostri amici. La Costituzione è un principio fondante per cui esiste di fatto la libertà del cittadino. Se non esiste la Costituzione... Non esiste nessun corollario che ne derivi. E se la Costituzione viene sistematicamente tradita da chi sta al potere, non esiste la Costituzione. Allora, è meglio... Non esiste la legge, in assoluto. Non può esistere la legge. Allora, è meglio, è più onesto, è più serio il potere assolutistico, antirivoluzione francese, che almeno la gente sapeva esattamente com'era la situazione. Esatto, ma sapeva le modalità di comportamento da tenere. Esattamente. Certo. Qui invece tu ti trovi sistematicamente, con una cazzaglia di mascalzoni, poi vi diremo come andrà a finire, quale sarà l'esito della nostra denuncia presso il Tar del Lazio. Guarda, Alessandro Manzoni aveva esemplificato perfettamente le modalità con cui si comportano questi cialtroni del potere. Cioè, il potere non solo assolutistico, ma proprio arbitrario, come abbiamo detto prima. Cioè, una volta lo applicano, una volta non lo applicano, a seconda di come gli fa più comodo e utile. Attenzione, ma Alessandro Manzoni si riferiva a una situazione veramente tragica, all'invasione spagnola, che era già di per sé corrotta, ed era pure un'invasione di disurpazione di diritto assoluto. Che trattava gli italiani come merce di scambio. Ma siamo nella stessa identica condizione, non ci sono gli spagnoli, ci sono gli americani. Esattamente, gli anglo-americani e gli ebrei. Certo. Allora, andiamo avanti. Per dare forza alla sua richiesta di pace, negli stessi mesi, Emergency propose a tre giuristi, Luigi Ferraioli, Domenico Gallo, Danilo Zolo, Danilo Zolo è veramente un giurista di altissimo livello, di preparare il testo della proposta di legge di iniziativa popolare. La proposta di legge chiede una serie di garanzie che rendano operante l'articolo 11, ne consentono un'effettiva applicazione e prevedono rigorose sanzioni per le sue violazioni. Emergency raccolse 137.319 firme, ben oltre le 50.000 richieste dalla legge, che presentò all'ufficio testi normativi della Camera dei Deputati. di lì non se ne è saputo più nulla. Il 17 giugno 2003. Allora, a questa gente qui, noi cercheremo in qualche modo di fargli pagare il conto, che vi progetto, è una cosa troppo grave. Allora, continuiamo nella nostra lettura, perché i nostri amici resteranno stupiti di quello che io più di una volta ho citato a questa bellissima rivista, che ripeto è del 1993, questo è di un altro numero, è di un altro mese, e a parte il titolo è dedicato alla droga, come la droga riesce a filtrare indipendentemente dall'altra cosa. La droga è strumentale al regime. Esattamente come la religione. E allora, veniamo ad alcune cose, perché sono attuali anche oggi. Quella tempesta sui doppi servizi, o tripli. No, ma adesso possiamo anche parlare di quadrupli. E leggiamo per primo questo, perché è troppo bello. Questo signore qui, noi lo conosciamo, dopo lo diciamo. Esattamente. No, è uno che dice le cose come stanno. No, ma noi lo conosciamo direttamente. Certo, certo. L'antimafia... Quando siamo andati lì, in quel posto. L'antimafia perquisisse i servizi segreti e li accusa di manipolare i carteggi. E poi l'ha tentato alla Confindustria, il caso Contrada. Eh, beh, lì. Non c'è pace per il Sisde, il suo capo avverte, punto, punto, punto. E abbiamo D'Amelio. Contrada è stato esemplare. C'è un patto d'Amelio, in Sicilia c'è un patto con la mafia. Ora, no, dobbiamo dire che il povero Contrada, che gli erano fatti passare di tutti con la mafia. Eh, ma è uno inossidabile stato, eh. Uno dei servizi ha obbedito agli ordini e gliel'hanno fatto pagare. Io, in quelle condizioni, c'era Contrada, ma poi c'è quell'altro, come si chiamava quell'altro? Quell'altro capitano. Eh, quello sì, quello è morto. Anche lui è morto di recente. Sì, sì. Che anche lui è stato coinvolto in una marea di roba. Però lui è uscito, alla fine è uscito volito. È riuscito a uscire, ma pochi anni dopo è morto. Sì, sì. Perché sono prove terribili. Allora, da questo punto di vista, colgo anche l'occasione. Beh, come Tortora. Se sei forte reagisci, ma empaticamente ne subisci le conseguenze. Perché uno dei punti essenziali del movimento Enzo Tortora era anche quello di affermare la causa psicosomatica del tumore. E voglio ricordare che ci sono moltissime persone che hanno un tumore intestinale che li porta a morte, che sono proprio dovuti ai magoni che hanno dovuto... Ai rosponi, più che i magoni. Ai rosponi. E vedi anche concettualmente. E io ricordo Paolo Signorelli, ad esempio. Paolo Signorelli è stato, che era un esponente della destra più o meno eversiva, però tutto era forché un terrorista. Tutt'altro che terrorista, fu accusato, e so anche da chi e perché, ma non entro del merito. No, anche perché se no allarghiamo a macchia d'olio. Vabbè, ma noi lo sappiamo, cioè deve avere messo le bombe sul treno a Piazza Bologna, nello stazione di Bologna. Si è fatto dieci anni di galera, ma non una galera semplice. Di isolamento? Si è fatto moltissimi anni in isolamento totale. Lui, uomo completamente estroverso, totalmente estroverso, la fine qual è stata? Quando è stato totalmente scagionato, dopo dieci anni, penso sia vissuto quattro o cinque anni e poi morto anche lui per un tumore intestinale. Anche lì l'eccesso di rospi che lui è dovuto ingoiare giorno dopo giorno, notte dopo notte, in quell'infame carcere. E poi accusato dalle peggio cose, gli avevano anche tolto la patria potestà. Cioè, sono cose allucinanti, quelli che gli hanno fatto ben sapevano che le accuse erano pertestuose. Anche se lui non era innocente in quanto tale, non è che fosse un innocente. Anzi, ricordo qui lo stesso discorso che capitò a Freda, al quale gli chiesero, ma tu sei innocente? E gli rispondono, no, non sono innocente. Nel senso, come Franco Freda è un uomo di grande cultura, dice, non sono innocente, innocente ci dice, sono un strozzo. Non sono colpevole. Non sono colpevole della cosa di cui tu mi ricordi, eccetera. Allora, veniamo nel merito. D'Amelio, in Sicilia c'è un patto con la mafia. Siamo, oh, queste cose se ne parla oggi. 93, 21 anni fa. Esattamente. Questo è del, e lo voglio rileggere, la 3 febbraio 1993. Nel caso Contrada, comunque vadano le cose, il colpo l'ha ricevuto lo Stato, questa parvenza di Stato, ovviamente. Perché se Contrada era colluso con la mafia, evidentemente lo Stato ne riceveva un discredito. E se invece egli è stato vittima di un raggiro, qui siamo nel pieno della problematica. Certo, nell'inizio delle ipotesi, ecco. Ecco, non solo, ma nel pieno della problematica. Cioè, quando tu stai dentro alla cosa e ci sono tutta una serie di accusi ben specifiche, è difficile che tu riesci a districare. A parare il colpo. Oggi, a vent'anni di distanza, rischia da tutta una montatura. No, anche perché quando ti attaccano, riuscire a controprovare l'inesistente è difficile, è impresa impossibile. Ecco, chi si deve ergere come giudice non può ignorare che la massa dell'opinione pubblica lo squalificherebbe immediatamente se lui asserisse e affermasse palesemente l'innocenza delle persone. Ora, oggi noi sappiamo perfettamente che Contrada, come quell'altro capitano dei servizi E non mi viene in mente Implicato anche lui E questo era alto In una serie di cose sempre relative a Tangentopoli e questa roba qua E agli opposti estremismi Ecco, agivano sicuramente su ordine di chi gli aveva dato l'ordine E poi bisogna vedere se in questo paese dove i servizi segreti sono 10.000 Tutte derivazioni dell'ovra, ricordatele cari amici, è tutta ovra questa Che cos'è l'ovra? Se fosse stata ovra sarebbe stata anche abbastanza... No, no, ma è ovra Abbastanza, diciamo, fulminante, no? È ovra con tutte le sue sfaccettature Con tutte le sue sfaccettature Com'è ampiamente scritto in relazione a un grande personaggio del Ministero degli Interni Che era da mato Quindi rimaniamo qui perché sennò usciremo dalle regole Diciamo che l'ovra era allora, resta oggi, una fattispecie di spectre Così gli amici lo capiscono Poi ce lo vanno a vedere Uno degli ultimi libri appunto sull'uomo ombra del Ministero degli Interni È facilmente reperibile ancora oggi Né in quelle edizioni tipo Controcorrente Che ha pubblicato quasi tutti i libri Di tutti quei magistrati che hanno indagato sugli anni di piomba Ecco, tanto per dare un'idea in generale E se invece egli è stato vittima di un raggiro La credibilità dello Stato sarebbe ugualmente compromessa Perché avrebbe la dimostrazione che la mafia Anche attraverso i pentiti Riesce a raggiungere i suoi scopi Allora, questa per me è la prima volta che una persona Che è solitamente informata sui fatti Dice che i pentiti sono in realtà Manipolati dalla mafia Un tentacolo! Un tentacolo, no? Come si fa a dire che... Va bene Lo dice il senatore democristiano Saverio D'Amelio Uno dei pochi parlamentari Che serbano la memoria segreta Della commissione antimafia Dell'ultimo decennio Ora, chi volesse andare a spulciare Nel numero allucinante di faldoni Che c'è nella commissione antimafia Nella biblioteca della commissione antimafia Come a suo tempo, prima di morire Faceva regolarmente il senatore Giorgio Pisanò Che pubblicava tutto sul suo giornale Il Candido E prima ancora sul suo giornale Ventesimo secolo Allora, potrebbe vedere che dice scritto Tutto il contrario di tutto Perché? Perché la situazione tra Stato L'ingarbugliamento È ingarbugliata, intricata Non potrai mai riuscire a distinguere Cosa è la mafia, cosa non è la mafia Qual è la mafia vera, qual è la mafia falsa Perché la mafia agisce, eccetera Ma qui c'è scritto un concetto molto importante Qual è la mafia dominante in quel determinato momento? Esattamente Perché la mafia non è una sola Esattamente Quali sono le forze di gioco Per mafia possiamo intendere anche Le organizzazioni occulte È così Tanto per dire Lo dice da meglio Eh certo La P2, la P3, la P4 Esattamente Ed anche non solo le P Ma anche gli amici di Rito Scozzese Gli amici di Rito Orientale Eccetera, eccetera Quelli di I Come si dice I cavalieri Dei vari ordini In particolare Quelli di scuola tua Esattamente Quelli che vengono da lì Tanto per dire uno Vincenzo Scotti Certo Tanto per dirlo Guarda Ci vorrebbe una costituente A cura di Fabio Andriola Nel 1993 Noto storico Altro che bicammerale Sostiene Sergio Romano Giornalista Ed ex diplomatico Per il quale l'Italia Ambasciatore È in mano Ad una oligarchia Di incapaci Anche di dimettersi E di elaborare Una nuova politica estera Adatta Al dopoguerra fredda Adesso sta cambiando Opinione Allora Sergio Romano Dovrebbe sapere Sergio Romano E fa finta di non sapere Lo sa tutto Lo sa bene Che il sistema È Confacente Al potere che c'è Quello sotterraneo Non quello Palese Apparente Che conoscono I cittadini normali Esattamente Il potere Che conoscono I cittadini romani È solo Normali È solo una facciata È solo Un teatro È veramente Una facciata Talmente Frivola Talmente limitata Talmente decartone Che Si resta Si resta Veramente stupiti Dall'eseguità Dello spessore Di questa facciata Certo È una vernice Si È solo Appena appena Quei micron Che servono Per dare Un'immagine Di congruenza E di Diciamo Posatezza No Concreta Da cui L'imbecillaggine O peggio ancora La complicità Di tutti coloro Che in un modo O nell'altro Credono Alle idiosie Che vengono dette In quel contesto Andiamo avanti Domanda Al democristiano Saverio D'Amelio Lei crede Che i servizi Di sicurezza Abbiano ancora In Italia La licenza Di uccidere Magari per tutelare La ragione Per contodersi Sì Sicuro Dice Credo di no E te Credo che volevi morire Deve dire di no Per forza Nessuno E nessuna legge Deve coprire I servizi Se questi Si macchiano Di delitto A suo giudizio Senatore Vige ancora Una sorta Di sovranità Limitata Dello Stato Italiano Sulla Sicilia In forza Di un protocollo Segreto Al trattato Di pace Ma non è vero un cazzo C'è la Costituzione Della Sicilia Che dice Che è uno Stato Esattamente Attenzione Si è sempre saputo Negli ambienti politici Oltre agli accordi Della mafia Sì Ma c'è scritto Lo dice indirettamente Gli accordi di Cassibile Ma ti immagini Si è sempre saputo Negli ambienti politici Di una certa limitazione Dello Stato Rispetto alla Sicilia Che ha comportato Anche la concessione Di impunità Seppure limitate C'è stato Un depistaggio Continuo Per impedire La ricerca Del vero assassino Dell'ex presidente Della regione siciliana Pier Santi Mattarella Ho faccio presente Che Pier Santi Mattarella Era mio compagno Di scuola Liceo Si è inventata Una pista nera Accusando Giusva Fioravanti Del delito C'era questo Fioravanti Che siccome aveva Sicuramente Ma tu parli Del leone tredicesimo? No Quando ero A San Leone Magno A San Leone Magno? Sì Sì Erano i due fratelli Erano a scuola lì Eh Ma dal San Leone Magno Partono una serie di A San Leone Magno Di azioni No Politiche C'ha una storia No Non è San Leone Magno Lì c'era Invece c'era Che era Collega proprio In classe Con loro C'era Il commissario Calabresi Siamo al liceo Comunque C'era 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 Mattarella Piersanti Mi pare Che fosse un anno Prima di me Mentre l'altro fratello Assieme Un anno dopo Ah sì Al commissario Calabresi Un anno dopo No Del San Leone Magno Non è partito niente Non eri San Leone Magno Ma all'epoca tua Forse ancora non era così Ma adesso è controllato Da chi sappiamo bene Ma è un classico diverso Perché presso la nuova sede Del San Leone Magno C'è uno stabile Una nuova università privata C'è separato Dove c'è quella Quella cosa Che ha preso sicuramente In affitto Alla scuola Allora qui è tutto Un altro discorso Certo Certo Direi che La componente più importante Più di carattere camorristico Che non mafioso Camorristico Mafioso E dei cavalieri Ovviamente Del potere economico Dei cavalieri Dei cavalieri Dei cavalieri Tanto è vero Che è l'università di Malta Esatto Non a caso Il presidente di Malta Che ha 30.000 abitanti E' stato eletto A presidente dell'ONU Ovviamente Tanto per dirne una Insomma E non è stata un'operazione Di buonismo E' stata un'operazione Ma è chiaro Molto ben pagata Ma è chiaro Ora Dell'omicidio Viene incolpato Un mafioso Secondo la testimonianza Di un pentito Senatore D'Amelio Perché uccisero Mattarella Per fatti siciliani Credo Ne sono convintissimo Anch'io Perlomeno Sono preminenti Quelli siciliani Il fratello Di Piersanti Sergio Non si è mai pronunciato Sulla questione Evidentemente Ai suoi problemi Quello più piccolo Sì Come si sta comportando La commissione antimafia Sulle questioni siciliane Sbaglia Perché nell'esame Dei problemi Dà la sensazione Di seguire Delle tesi Senza averle prima verificate E non le verifica mai La commissione antimafia Non c'è bisogno Non c'è bisogno Quelle sono delle verità Da rivelare al volgo Esattamente E quindi che bisogno Di verifica Ci hanno E allora Adesso passiamo Ad un altro articolo Molto importante Va detto un'ultima cosa A proposito della Sicilia Che se volesse Il Banco di Sicilia Potrebbe emettere moneta Certamente Certamente Ma guarda che La istituzione Della Banca d'Italia Uno dovrebbe andare A Spulciare A spulciare I decreti E le norme Di legge Istitutive Della Banca d'Italia Che non Eliminano Certe peculiarità E certe funzioni Delle banche stesse Cioè Delle banche Che prima Della Banca d'Italia Erano Adibite Le 6 banche Di emissione Esattamente A emettere Carta moneta Tra parentesi Una cosa molto importante Che diciamo I nostri amici Perché è molto importante Ai fini Del concetto Di moneta complementare Noi abbiamo sempre Sostenuto Che in Italia Ci sono moltissime Monete complementari E io Personalmente Ho parlato Una ventina sicuramente No no Ma ti sto dicendo Un'altra cosa Io ho parlato Più di una volta E anche Circa un decennio fa Del fatto Ad esempio Che i buoni benzina Quelli che vengono dati A chi viene dall'estero Sono monete complementari Tu le puoi scambiare Comunque Io c'era un periodo Che ne avevo affasci E li usavo Mettevo un po' di benzina E dicevo Dammi un po' di resto E mi dava il resto Esattamente Quando io ero ragazzo Corteggiavo Le straniere E mi facevo regalare Oppure compravo Pagandole molto bene Perché non si pagavano le tasse I buoni benzini Quella è moneta E complimentare Tutti gli effetti Proprio ieri Ho saputo Che hanno I gettoni del telefono Ti ricordi I gettoni del telefono Era moneta Ti giravano il resto Al bar Tanti vero Che a un certo punto Trovarono il modo Di eliminarli Proprio perché Fungevano da moneta Questo per dire Che qualsiasi Strumento di scambio Di merci Nei confronti Di merci concrete Può essere istituito E può essere valido A patto che Chi lo riceve Sia sicuro Che a sua volta Non può passare ad un altro Allora Proprio ieri Sono venuto a sapere Che hanno fatto Un decreto Credo che sia L'associazione Dei supermercati Che impone A chi si presenta Quei buoni pasto Dati dalle proprie aziende Dalle scuole Eccetera Eccetera Debba presentare La carta di identità Perché? Perché i buoni pasto Sono utilizzati Sistematicamente Come moneta Come moneta Invece Dovendo Giustificarli Con un documento Di possesso Di identità E quindi di possesso Decadono Dal circuito Di accettazione Esattamente Diciamo in qualche modo Esattamente Generale Esattamente Perché? Perché è automatico Allora Questo lo voglio dire A tutti i nostri amici Che storcono sempre Il naso e non riescono A capire Il ruolo E la funzione No? Il ruolo E la funzione Della moneta complementare Siamo a 31 minuti Esattamente Allora Adesso veniamo A un'altra cosa Perché è un articolo Molto importante E abbiamo Questo qui Leggi Leggi Questo è stato scritto Ve lo voglio leggere Per intero Cari amici E' stato scritto Questa del 93 Ricordiamolo In quel fatidico Giorno del 92 A bordo di uno yacht Britannico E' stato scritto Ma come non avesse scritto Niente nessuno Infatti Non fecero La festa Della Repubblica Ma La festa Alla Repubblica A quel fatidico Giorno Del 92 A bordo di uno yacht Britannico Alcuni signori Della finanza Che si chiamava Britannia E sui fatti Britannico Che si chiamava Britannia Non a caso Cioè Anche quel fatto lì E' importantissimo Ah poi bisognerebbe Che parliamo un attimo Della secessione scozzese Ma quello lo Facciamo un video dopo Ieri No zitto Buono Lo facciamo dopo Vabbè Comunque sia Visto che l'hai citato Lo devo dire Ieri sera Hanno detto Che c'è stata Una rimonta dei no Forse che fosse La volta buona No La rimonta dei no Che non vogliono La secessione Che non vogliono La secessione Vabbè No Ci ha messo le mani I loro signori Certo E la rimonta dei no Stanno preparando La vittoria dei no E questo è talmente Che sarà Un falso Lo diciamo subito E' un falso Gli scossesi Si devono ribellare Ma ma loro C'hanno Il ballo di Adriano E se metterlo E chi passa Passa Allora Di nuovo Sei il nipote di Rothschild Il quale Il quale Ovviamente Non fa muovere Paglia che non voglia Esattamente Cioè basterebbe Soltanto Dare l'ok O non l'ok Della messa in liste Allora Ecco i nomi Infatti Spunta anche Bossi E' interessante Questo aspetto Bossistico Perché All'epoca Si si E' delle Come dire La politica E' questa Adesso Francamente Io Noi abbiamo Un esempio Tipico Di una guerra Feroce Che fu fatta Tra Cesare E Pompeo Ci stanno A prendere in giro Con sto cosa Del veleno Che poi Sai che mi ha detto Giuseppe Passano Danno un filo di veleno L'acqua minerale Danno Meno male Meno male Meno male Ma ce la fanno pagare L'immortal E beh Adesso faremo Quello che dobbiamo fare Allora Noi A duemila anni Di distanza Sappiamo perfettamente Che la guerra L'uomo per tutte le battaglie Di Cesare L'uomo per tutte le battaglie Contro Pompeo E' stata autentica Perché è costato La Maria De Bonotti Beh La guerra sociale È durata Un bel po' di anni La guerra sociale Che è sfociata Nell'impero È durata un secolo Minimo Un secolo Due o tre milioni Di morti ci sono stati È durata Un secolo Un secolo Allora Andatevi a vedere È stato Ottaviano Negli ultimi anni Di vita Ottaviano Che ha risolto Tutto Questa crisi Infatti è stato Nominato padre La patria Anche per quel motivo Esattamente Che è stata Una crisi sociale Che ha visto Uno scontro fondamentale Tra alcune Categorie Sociali Molto importante Non entriamo Nel mercato Ci perdiamo Dappertutto Però lo voglio dire Che la politica Si comporta Come una biscia E qui cita Il caso Di una certa Partecipazione Culturale Più che altro Della Lega A questa operazione Ma all'epoca La Lega Era ad esempio Ultraliberista Ma noi lo leggeremo Oggi non lo è Oggi la Lega Si sta identificando E fa molto bene Con gli aspetti Reali Popolari Popolistici Locali Che sono quelli Che noi possiamo Sposare Assolutamente Infatti Non a caso Siamo in contatto Con Mario Borghezio Esattamente Perché giustamente Lui ha sempre perseguito Questa linea Questa linea Al contrario Di boss Di tanti altri Esatto Marvoni Verticolare Di quell'altro Quello Tutti gli altri Certo Allora Giugno 1992 Muore il giudice Falcone E' molto importante Che il giudice Falcone Sia morto Nel giugno 1992 Non doveva uscire Il libro rosso Dobbiamo anche Far vedere Questo numero Molto recente Di questa rivista Bella Dove Buono Buono Processo Nessuna pietà Per C'ha ragione C'ha ragione Da vendere Mi sto Li impiccavo Tutti Ma è questo L'argomento Allora Piena guerra Quei siete Fanno La cosa Di questo Capisco Il colpo Di stato Del re Che era Un altro Discorso Ma che poi All'interno Proprio Del fascismo Ci fossero Traditori Con quel punto E' stato Inconcepibile Ma noi Facciamo vedere Un'altra cosa John Fitzgerald Kennedy Non fosse stato E se non fosse stato Assassinato Ecco era E' un bel C'è qui scritto Lo faremo vedere Un'altra volta La storia E' inequivocabile Qui c'è scritto Lo faremo vedere In un altro momento No non solo Inequivocabile Ma che ne pensi Rocci La storia E' inamovibile Indirigibile Incontrollabile Beh a lui L'hanno fatto fuori E tutto quello Che è venuto dopo E' stato E' stato dovuto A gente Che Non essendoci lui Ha fatto certe cose Ad esempio Lui avrebbe Chiuso subito Con la guerra In Vietnam Tanto per dirne uno E non è una cosa Da poco E spiega anche Perché è stato ucciso Non soltanto Per il dollaro Per aver Nazionalizzato L'emozione monetaria Andiamo avanti Mentre l'Italia Si indigna E scende in piazza Siamo a 38 minuti Qualcun altro Dà il via Alla svendita Dello Stato Prime vittime Annunciate I patrimoni Industriali E biancari Più prestigiosi Il nome Dell'operazione E' Privatizzazione Formula magica Presentata Alla In quanto Privatizzare Significa Regalare Ai Rothschild Esattamente Il nome Dell'operazione Non far comprare Alla scesiva Di Cantù Esatto E' talmente Interessante Questo Quest'articolo Perché i nostri amici Capiranno esattamente Cosa sta succedendo oggi Il nome dell'operazione Privatizzazione Formula magica Presentata Alla collettività Come unica cura Per risanare La nostra economia E che invece Nasconde Un business Delle proporzioni Incalcolabili Patti di sangue Tra le famiglie Più influenti Del capitalismo Dinastie Imprenditoriali Banche E signori Della moneta Accordi E strategie Politiche Ben decise Con un minimo Comune denominatore Scippare agli stati Considerati Un inutile retaggio Del passato E un odioso Freno Alla globalizzazione Del mercato La sovranità Monetaria E' scritto Nel Cioè All'inizio A febbraio Come fosse scritto Il 92 L'Italia Un'espressione Che è l'articolista? L'articolista E' tale Marco Torre Che sicuramente E' un nome inventario E' un pseudonimo Perché per scrivere Una rivista così Talmente importante Non credo che io Poi il giornalista Marco Torre Non l'ho mai sentito L'Italia E' un'espressione Geografica Delle lobby Dell'impero Multinazionale Angloamericano E quanto viene decisa Anzi ufficialmente Salcito Il 2 giugno 1992 E' scritto Questo è scritto A febbraio 1993 A bordo Del reggio Yotto Britannia Che si trovava Per caso Nelle nostre Acque territoriali Attenzione Che l'operazione No Non erano Le acque territoriali Era appena fuori Delle acque territoriali No Uscirono No C'era il tender C'era il tender Che portava dal porto A 12 miglia La ragazza L'operazione Per facilitare L'or signori Cioè Gli italiani E non Essere Presi Non era l'ancora Al porto Non era l'ancora Al porto Si ma non è Quello Poi dopo Ancora Ma poi La parte La parte Diciamo Grossa Dell'incontro All'estero È stata fatta All'estero Fuori Delle acque territoriali Esatto È quello che sto dicendo Però per farli salire Dovevano essere per forza Nelle acque territoriali Ma c'era un tender C'era un tender Il tender Non ti porta a 50 Non ti porta a 50 km di distanza L'operazione L'ha detto Stava a 12 miglia Oltre le 12 miglia L'ha detto Va beh Che cazzo Può darsi se lo ricorda Forse no Ma ancora L'ha detto all'epoca Andiamo avanti Dai Quello che è importante Che comunque C'è stata questa Diciamo Altalena Di attracco E allontanamento Fuori dalle acque Dovevano farlo In acque Neutre Certo Allora Dai rappresentanti Della BZWU La ditta di brocheraggio Della Barclays Della Bering & Co Della SG Warburg E dai nostri dirigenti Dell'ENI Dell'AGIP Da Mario Draghi Del Ministero del Tesorio Prodi Da Riccardo Gallo Dell'Iri De Giovanni Bazzoli Dell'Ambro Veneto Antonio Medone Del Crediop Lui sfida solo Gli imprenditori Allora Gli amministratori Delegati Delle imprese Intanto diciamo questo Sì Oggi sfuggono sempre Dall'attenzione Sì sì Ed altri funzionari Della Comit Delle Generali E della Società Autostrade Lo rivela Un documento Della Executive Intelligence Review Allora Ricordiamoci sempre Che è la Executive Intelligence Review Di cui noi Riceviamo Sistematicamente Le notizie Che è la Organizzazione Informativa Del POE Partito Operaio Europeo Di cui è Presidente Emania Pars Il grande politolico E economista Lyndon LaRouche Ricercato Dei servizi segreti americani Perché va contro Gli interessi Della finanza Da 50 anni Oltre i 50 anni Sì ma Lui sta anche Sulla novantina Però ha una Elasticità Mentale Eccezionale Andiamo avanti Quindi ricordiamoci Executive Intelligence Review Se non ci fosse Stata questa informativa Non si sapeva Nulla Poche ore di discussione E l'affare Prende corpo Al governo Amato Il compito Di giustificare La filosofia Dell'operazione Con una Adeguata Campagna Stampa Di Drammatizzazione Dei dati Del deficit Pubblico Ecco perché La ravina Del 4 per 1000 Ecco Non solo Ma quello Che sta avvenendo Oggi L'operazione È quella Di drammatizzare La situazione Economica Per giustificare Tutte le porcate Che sta facendo Questo infame Governo Retto dal burattino Matteo Renzi Assassino Delinquente Assassini italiani Induttore Al suicidi E quant'altro Erede di lunga Tradizione Di infame Di lunga tradizione Massoniche No no ma Anche familiari Sì Catto comunista E massonico Tutto il resto È la cronaca giornaliera Di un copione Preparato a tavolino E al quale Noi abbiamo assistito Soltanto da spettatori La scomunica Terroristica Della nostra Macchina statale Da parte Dell'agenzia Di rating New Yorkese Moody's La stessa Che è operata Anche adesso La quale Fra le altre Noi abbiamo denunciato E il procuratore Di Trani Michele Di Ruggero Gli sta facendo Il pelo controvelo E già li ha condannati Adesso sono un appello Ricordiamolo Alla gente Ricordiamolo Alla gente A muoversi Gli scerpa Gli scerpano Cominciano a agire immediatamente Esattamente Con il massimo rispetto Degli scerpa Perché uno scerpa È uno che ci fa Due coglioni Porta il peso Porta il peso Dei bagagli Sia suoi Che di quello Il cimo all'everest Lo porta Capito E non viene mai citato Ecco Io a Prodi Gli metterei Un peso identico Però poi Gli farei fare Un bagnetto Sull'Adriatico Il posto più giusto Dove uno stronzo Così deve stare Capito Allora Romano Prodi Che durante il convegno Presse la Salombarda Del 30 settembre 92 Solo tre mesi Dopo il protocollo Britannia Parti in tromba Suggerendo Di privatizzare Alla grande Tutto lo stivale Vendendo le banche Di interesse nazionale E qui entriamo In un altro problema Fondamentale Che ancora Non si tira Bisogna fare Subito un attimo Una presa di posizione Noi politicamente Se mai saremo eletti E quando saremo eletti Le prime cose Che faremo È Di denunciare I fatti Di revocare I mandati Di riappropriare Lo stato Di tutti i beni Che gli sono stati Truffaldinamente Sottratti Esattamente Allora Qui c'è un altro aspetto Che volevo dire A tutt'oggi Gli amici E i servi Dei loro signori Continuano A insistere A dire Che la Banca d'Italia È privata È pubblica Perché La Banca d'Italia Sottostà Al diritto pubblico Ma il diritto pubblico Può essere applicato Anche a enti privati Non entriamo nel merito Come riuscì Mussolini A nazionalizzare Basta essere concessionario E rientra nel diritto pubblico È naturale È naturale L'ATAC Se fosse privata Come quasi Lo sarà a breve Comunque Siccome è concessionario È un servizio pubblico Rientra nel diritto pubblico Quando ha una causa in corso Attraverso norme relative Al diritto pubblico E al diritto privato Perché non è privatistico Il rapporto Ma non è tanto questo Che volevo dire Mussolini riuscì A nazionalizzare La Banca d'Italia Indirettamente Cioè Nazionalizzando I tre Più importanti Azionisti Della banca stessa Ecco dove è stata L'operazione Le tre banche Di interesse nazionale Esatto Comit Credit italiano E Banca di Roma Oggi Unicredit Che sono E restano I più grandi Azionisti Della Banca d'Italia Ricordiamoci Che la Banca d'Italia Privata È azionista Della Banca Centrale Europea Per un 14% Privata Va bene? Allora Tu dici Ma tu cosa vorresti fare? E a me Faccio una cosa Molto sempre È la quarta azionista Della Banca Centrale Europea Quando la prima azionista È la Germania E la seconda azionista È la Gran Bretagna Che non Che non paga pegno Che non paga pegno Che cosa vorresti fare tu allora? Io mi limiterei A privatizzare A rendere pubblica La Banca d'Italia Per cui I guadagni Ingentissimi Che la Banca d'Italia Riceve Dalla creazione Dal nulla Della moneta Circa l'equivalente Di un altro Prodotto interno lordo Esattamente Passerebbe automaticamente All'italiano Non si bisogna Di fare nient'altro A me non me ne frega niente Da Victor Orban In un anno Che cazzo ha combinato Esattamente Allora Ha permesso all'Ungheria Di incrementare Il prodotto interno lordo Dell'8% Quest'anno Ha ridotto il debito pubblico Che invece dicono Che è aumentato Ma pure se fosse aumentato Sarebbe comunque Bene Un deficit È solo un deficit Esattamente Non è È comunque bene Un deficit contabile È bravissimo Parole scritte Su un foglio di carta Esattamente Ma soprattutto Ha ridotto Le tasse della metà Esattamente La portate a circa Il 20% Esattamente Ha ridotto i costi Dei servizi pubblici Della metà Esattamente Siena E l'Istituto Nazionale Delle Assicurazioni L'Istituto Nazionale Delle Assicurazioni Era importantissimo Perché Era un altro Cassaforte Della moneta italiana Come la cassa Depositi e prestiti Così era l'INA Oh Perché No Qui bisogna dire L'episodio che è stato fatto Vabbè Di estromissione Per il Sinotto Esattamente Per il Sinotto Che era una persona Di una Di una signorelità Di una Di dignità Di una discendenza Perché il padre Pure Sappiamo Attraverso linee dirette Di informazione Le persone Che loro sono E questo è stato Accusato di tutto E di più Perché doveva essere Estromesso E scavalcato Per lasciare spazio Ai galoppini Del potere Controllato Da questi E quindi Attraverso di loro Controllare La seconda Cassaforte italiana Esattamente Oh Eh L'altra cosa Che volevo dire Che più mai Interrotto Sì L'Istituto Nazionale Delle assicurazioni Era L'alternativa Nazionale E statale Alle Assicurazioni Rapinatrici Che fanno parte Del giro Degli oppressori Del popolo Perché non si può Assolutamente Scindere Il ruolo Era Era L'ente Calmieratore Oltretutto Oltretutto Delle Assicurazioni Di assicurazioni Anche le spese assicurative Certo Anche le spese assicurative Cioè l'intreccio Tra usura E assicurazioni È sempre lo stesso Ecco perché Lo scopo Qual era Era quello Di potenziare Un'assicurazione Statale Di modo Che i guadagni Di queste assicurazioni Ricadessero Ottimemente Nell'interesse Del popolo italiano Eccolo qui Messo in mezzo Immediatamente Proseguiamo Attenzione Perché non ci siamo Fermati qui C'è altra roba A questo punto La matassa Comincia A districarsi Alcuni nodi Vengono al peggio Ma è così Qualunque tipo di matassa Quando incominci A capire il bandolo Il resto viene automatico È solo questione Di andare a prenderle Diciamo Eseguitare l'operazione Metodicamente Il problema È individuare il bandolo Esattamente A questo punto La matassa Comincia a districarsi Alcuni nodi Vengono al pettine Certe politiche Si possono spiegare Anche la svalutazione Della lira È stato soltanto Un comodo affare Per le finanziarie Di Wall Street Calcolato Ciampi non è esente Da colpe È stato partecipe In prima battuta Infatti L'hanno fatto Presidente La Repubblica Ringraziata Certamente Calcolato in dollari L'acquisto Delle nostre imprese Da privatizzare È diventato Infatti Per gli acquirenti Americani Un regalo Del 30% Meno costoso Del 30% Un regalo La stessa lira La stessa lira Attento Si va Se stando ormai Sul valore politico Di circa Mille lire A Marco Ricordatevi Mille lire A Marco Non 2000 Mille Esatto Esatto Quindi Tenendo presente Che l'euro Altri non è Che il Marco L'ulteriore Svalutazione Che hanno fatto Lorsignori Per regalare Tedeschi Il resto Che non si erano Spolpati Gli angolo Americani Esattamente Quindi Già Per esempio Lamborghini Ducati Esatto E poi altro Non mi viene Ma c'è una marea Di dire Però qui c'è scritto Allora Già il fatto Che fosse Il Marco A 1000 lire E che rappresentava Una svalutazione Della lira Senza contropartita Perché un conto Svalutare Questo è grave Per favorire Per favorire L'esportazione Cessione Di proprietà Monetaria In cambio Di nulla L'articolo 11 E oltre a E' da E' da Il cagione Certo E' da tradimento Alto tradimento Ma non bisogna Stupirsi Il disegno Di espansione Delle grandi Finanziari Anglo-americane E' noto E viene da lontano Siamo a 53 La società Montpellier Che per 12 anni Ha dominato L'economia inglese Sir Leon Britton Ec commissario Della CE E vecchio esponente Del governo Della Thatcher Il club segreto Del Bilderberg Siamo nel 1993 Frequentati Dal nostro Agnelli Da Kissinger Da Rothschild I loro associati New Yorkesi Della Goldman Sachs Della Mary Lynch Della Salomon Brothers I loro sostenitori Nel Fondo Monetario Internazionale Nell'Ocse Eccetera Personaggi Sigle E organizzazioni Che non spuntano A caso Fanno parte Della storia Sono la storia Ricorrono In tutti Gli importanti Processi Di trasformazione Dell'economia mondiale Tre di queste finanziarie Ad esempio Sono direttamente Interessate Alle nostre privatizzazioni Collaborano infatti Col governo Amato Collaborano infatti Col governo Amato E c'era ancora Quello infame Vediamo ancora Era Sorcio Esatto Vediamo qualche dettaglio Che le riguarda I soprannomi Sono sempre Esemplificativi Del carattere Principale Dominante Il Sorcio Poi gli hanno Cambiato il nome Per poterlo Indottor Sottile Sì sì Allora Io ti filerei qualcosa Di molto sottile Come dico io Ma molto lungo Molto lungo Lunghissimo Fino alla gol La Goldman Sachs La prima di Wall Street Adesso anche Con sede operativa Milano Di cui è stato Dirigente Superiore Draghi E lo è stato Anche Monti E uno dei più Influenti Manipolatori Del prezzo Del petrolio E del valore Della moneta Il suo leader Ricordiamo che Saddam non è morto A calo Esatto Il suo leader supremo Robert Ruin Sarà il capo Del consiglio Di sicurezza nazionale Del neopresidente Clinton La Salomon Brothers Gestisce Il greggio mondiale Ed opera Prevalentemente Nel settore Delle materie prime Il suo nuovo Presidente Warren Buffett È il principale L'azionista Del Washington Post Della rete televisiva ABC E ha forti interessi Nella Wells Fargo Bank E nella American Express La Mary Lynch Infine Incaricata Dall'Iri Il 9 ottobre Dire Iri All'epoca Voleva dire Tutto Industria Mortadella Mortadella L'umano provi Sì Ah certo Allora lui Era lo smantellatore Esattamente La Mary Lynch Infine Incaricata Dall'Iri Voleva dire Il bello Il meglio Dell'industria Nazionale Che aveva fatto Arricchire In maniera eccezionale Il popolo italiano Perché l'aveva fatto Arricchire Perché nel momento In cui tu accentri La rinascita Cioè anche I mezzi I mezzi economici Certo Le risorse Per sostenere questo Sostenere quello Secondo il fabbisogno Crei moneta Esattamente La Mary Lynch Infine Se non ce l'hai Te la crei Esatto Ve lo puoi creare Quando e come vuoi Infine Incaricata Dall'Iri Non a caso Gli italiani Sono il popolo Al mondo Che ha il maggior tasso Di proprietà private In possesso Esatto Il 9 ottobre Favorito anche In maniera Dall'ambusivismo Da Craxi Perché Craxi Favorì L'acquisto Della casa Attraverso Un'operazione Di mutui Non ricordo Il 3% Secondo il principio Quando la sviluppazione Era al 20% Il mutuo casa Costava 3% Secondo il principio Del socialismo Mazziniano Tutti proprietari E non tutti proletari Certo Quello è quello Che ha dato maggiormente Fastidio La diffusione Della proprietà Certo E la ricchezza Reale Ricchezza reale Distribuita Ognuno Ognuno Proprietario Almeno Di casa sua Certo Ritetto Coinvolto Nella difesa Del territorio Dall'assalto Dell'estero Esattamente La Mary Lynch Infine Incaricata Da Liri 9 ottobre Scorso Di preparare La privatizzazione Del credito Italiano Ha occupato Spesso Le croniche Per alcune Operazioni Di riciclaggio Del denaro Sporco Tra l'Italia La costa orientale degli Stati Uniti E Lugano La famosa Pizza Connection Il processo Alla famiglia Mafiosa New Yorkese Dei Bonanno Allora Ricordiamoci bene Che in un libro Uscito Recentissimamente Di cui cercherò Di parlare Oggi pomeriggio Intitolato Vaticascia Ci sono Circa 300 pagine Di documentazione Di queste operazioni Tra l'altro Il libro Deve essere stato Scritto Di concerto Con interessi Gesuitici Perché parla bene Di questo Papa E dice Che questo Papa Si sta Dando da fare Per moralizzare L'ambiente Del Vaticano Allora Allora I Gesuiti Sotto E qui anche Questo Papa Sotto il profilo Della loro etica Di espansione Globalista Ricordiamoci Sempre E usuraia Ricordiamoci sempre Che loro sono i fondatori Delle principali banche Moderne E soprattutto Sono quelli Che portano avanti Il progetto Della mondializzazione Da sempre Da Saverio Da Francesco Saverio Da Inigo Dell'Oiola E compagnia Quindi È una loro Prospettiva Assoluta Prioritaria Di diffusione Della fede Ma anche Del potere Della chiesa Soprattutto Del potere Della chiesa Non ci lo scordiamo mai E loro Sono i capi In testa Di quello Che sta succedendo Ora Quindi dal loro Punto di vista La relazione È positiva In questo momento Certamente Loro stanno Spurgando Tutte le forme Di Opposizione Sì Ma soprattutto Di individualismo All'interno Della curia E anche Proprio perché Vogliono avere Completamente Certo Ricordiamocelo Si chiama È un libro Pubblicato Da un editore Non tra i più grossi Ma specializzato Nelle denunce Si trova Regolarmente Nelle librerie Io l'ho visto Su Feltrinelli Prima o poi Lo comprerò Ricordiate Il titolo Che avevo detto Prima Vati cash Finiamo A 60 Finiamo Allora Ultimo dato Non di poco conto Anche la Lega Sarebbe controllata In qualche modo Influenzate Dalle lobby Angloamericane Ora ripeto Quello che avevo detto Prima La lobby Angloamericana Può essere interessata Anche a favorire Movimenti Separatistici Che non è una cosa Da poco Allora qui C'è qualcosa Di scritto No potrebbe È Interessata No potrebbe essere Perché loro Allora ricordiamocelo bene Loro finanziano tutti I pro E i contro L'unificazione Italiana Fu voluta Dalla Inghilterra La quale Che cosa voleva Gli serviva Un interlocutore Solo Per il controllo Di Suez Qualora non fosse riuscita A unificare No Tutta l'Italia No Sottolegita Di una dinastia A lei Asservita Perché la dinastia Savoia È sempre stata Asservita All'Inghilterra Come dimostra L'8 settembre 1943 Dove il re A un certo punto Quando gli dissero Oh ragazzo Cosa vuoi fare Cioè gli arrivano Lì con un buffetto Dice ragazzino Che vuoi fare O con noi O contro di noi E lui dice No aspetta scusa E ha preso E scappato Col codazzo Di traditori Di assassini E di quant'altro Che era il suo Anturagio Allora L'Inghilterra Non aveva nessun interesse A trattare Con cento stati Bellicosi Tra di loro L'unico vero Uomo degno Della famiglia Savoia È stato Amedeo Amedeo I Di quale è morto Amedeo I Quello che andava E Carlo Carlo anche Carlo Quello della battaglia Di Vienna È una cosa Citeremo Attenzione Citeremo Questo personaggio È stato un grande personaggio Perché uno di questi giorni Io ho già raccolto Alcune sue frasi Molto importanti È stato il più grande Capitano del Seicento Alcune sue frasi Molto importanti Sulla guerra Accompagnate da un Eccezionale commento Di Nieto troppo di meno Che di Ugo Foscolo Però E che io ho già preparato E che ve lo dico subito Questa non la sapevo Beh ma lui è stato Un personaggio unico La difesa di Vienna È stata veramente Una cosa epica Vabbè Andiamo avanti Allora Ultimo dato Non di poco conto Dicevo Ha cambiato le sorti del mondo Anche la difesa di Vienna Ricordiamolo È stata una cosa Veramente Di portata Internazionale Mondiale Epocale Che aveva reagito Contro le stupidaggini Di Vienna Di Venezia La quale A un certo punto Non è stata All'altezza del ruolo Che si era assunta E pensando bene Di poter controllare L'Adriatico Ha rinunciato A conquistare L'Atlantico E l'ha pagata Le conseguenze Perché chi si taglia I coglioni Da solo Giustamente Merita di morire Merita di sanguarsi Chi si taglia I coglioni Da solo Gli danno pure Del culo Capito È la logica Capito Come dice quello lì Dice quel marito Che per fare rispetto Alla pubblicità Dopo tre secoli Dopo tre secoli Di domenio mondiale Del controllo Del denaro Del flussi mercantili Cioè Diretti indebocciato Diretti indebocciato Non sai più l'interesse Avete creato anche L'economia finanziaria Più importante del mondo E soprattutto I servizi segreti Più importanti del mondo Si fanno fregare Non a caso Giacomo Casanova Aveva molte vesti Esattamente Molte vesti E non a caso Giordano Bruno È stato fregato Da un veneziano Ricordiamoci bene Allora Andiamo avanti Ultimo dato Non di poco conto Anche la Lega Sarebbe controllata In qualche misura Influenzata Dalle lobby Angloamericane Il movimento di Bossi Da sempre Ultraliberista All'epoca È favorevole Alla privatizzazione Di ogni attività economica Dello Stato E anche questo Ha una sua logica Io privatizzo Tanto lo piglio per me Privatizzare tanta roba A nome della Padania Significa avere in mano Il 90% Dell'economia Dell'industria nazionale Dell'industria Che sta tutta lì Perché fu portata Da quelle parti A suo tempo Dopo la 861 No perché ricordiamoci Che le fonderie più grosse Prima del 1861 Stavano a Napoli A Taranto A Taranto E a Napoli Andiamo Se no non ci poteva essere Una flotta al sud E certo Tra l'altro è rimasta Proprio anche Una tradizione Per cui buona parte Di coloro che fanno Carriera in Marina Vengono da quelle zone Napoli Mi ha guagnato Con tutti gli amici Del corso Erano tutti di Taranto Di qui Un'antica consuetudine Di darretta Agli inglesi Anche Vedete cari amici Questo È una delle statue Più belle Bello Questa è Guidarello Guidarelli Che sta Nella biblioteca Di Ravenna E dove Grande Moltissime donne Bellissimo Il Valentino Altro che il Valentino Vengono a baciare A baciarlo A baciarlo A strofinarlo Più che possano E il frutto Perché Io cambio E così Mi è capitato casualmente Questa pagina Questa fotografia Fa vedere appunto L'uomo Nella sua fase Di massima debolezza Quella che interessa La femmina Sì perché lo manipola Lo controlla Non solo Ma è la fase Di debolezza Dopo l'atto sessuale Oltretutto Allora Che è il principio Fondamentale Dell'ape regina Che si fa E poi ammazza E che poi ammazza Il fuco Capito Ricordatevelo Ne parleremo Qualche altra volta Guidarello Guidarelli Anche in vano A volte scambiato Con altri cavalieri Che parteciparono Alla battaglia Di Ravenna Del 1512 Dove morì Il fiorfiore Tra la battaglia Di Ravenna E la battaglia Di Pavia Che determinò La sconfitta Definitiva Della Francia In Italia La lega di Gambè Esattamente E fu E fu eliminata La cavalleria francese Che era Era il mito Dell'epoca Finiamola su questa Ultimo dato E fu eliminata Perché erano state Inventate Le bombarde A mitraglia Non solo Ma loro Furono inventate Le bombarde Ma soprattutto I lanzi chenecchi Avevano le lance lunghe 5-6 metri Avevano le lance lunghe Facevano cadere I cavalli E quando il cavaliere Che aveva un'armatura Che pesava dei quintali Cadeva più delle volte Sotto Il cavallo Sotto il cavallo Avevano buon gioco Di sgozzarli Col pugnale Infilavano il pugnale Sotto la visiera No sotto la visiera Qui Sotto l'elmo Sotto l'elmo In quella parte Che ovviamente Non poteva essere Immobile E li sgozzavano Andiamo avanti Ultima lega Sarebbe conciliata In qualche misura Influenzata Dalle lobby anglo-americane Può anche darsi Lo sviluppo Che ebbe a suo tempo Sicuramente Come tutti i movimenti nuovi Sono presi in considerazione A chi detiene il potere mondiale E valuto le cose Se vale la pena Di contrastarla O farlo O aggiorare Ma non significa Che poi quello Sia Che la Lega È nata Proprio su ispirazione No ma può essere Può essere anche Del tutto Inconsapevolmente Abbia agito Favorendo Le lobby Certo Il movimento di Bossi Da sempre Ultraliberista E favorevole Alla privatizzazione Di ogni attività Economico Dello Stato È ispirato Per la propria Lotta politica Alle indicazioni Della fondazione Agnelli Legata Oltre All'omonima famiglia Anche Ad Enrico Cuccia Il garante Degli equilibri Economico-finanziari Fra l'Italia E l'estero Fondazione Che già Alla fine Del 90 In un progetto Denominato Padania Prospettava La divisione Dell'Italia In macro-regioni Infine Il periodico Della stessa Lega Che si chiamava All'epoca Repubblica del Nord Il 21 ottobre 1992 Ha pubblicato Integralmente Uno studio Promosso Dall'Associazione Americana Di Geografia Un'istituzione Che fa capo Ad alcuni servizi Di intelligence USA Tutto basato Sulla divisione Italiana In tre repubbliche Alla luce Di quanto è esposto Il governo Dei tecnici Voluto da Bossi E l'invito Dell'indipendente A votare Il 5 aprile Per la Lega Non sembrano più Così prigli Di senso Allora Questo è un altro Argomento Io sono convinto Che ci siano Dei meccanismi Automatici Per cui Alla nascita Di un Raggruppamento Geografico Superiore Quello Antecedente Si dissolve Come stiamo Assistendo oggi A tentativi Separatistici In Belgio Tentativi Separatistici In Olanda In Germania E oggi Il più importante È quello Dell'Inghilterra È molto probabile Che in un Assestamento Futuro Ma non Immediato L'Italia Si dividerà In tre regioni L'importante Per noi È che La Sicilia Non sia Un'unica regione Perché a quel punto Divenderebbe Di tutti i difetti La base militare Americana Sarebbe veramente L'ennesimo Stato Americano Che svolgerebbe La funzione Che all'epoca Hanno svolto Le Hawaii Che hanno Giustificato Il secondo Conflitto Mondiale Perché loro Hanno fatto apposta Hanno istituito Lo Stato L'ennesimo Stato In modo tale Che chi Avesse attaccato Le Hawaii Attaccava Direttamente I stati E quindi Ritengo che sia Ora di chiudere Anche perché Abbiamo detto Molte cose Oggi è durata Addirittura 65 minuti Quindi siamo Proprio Oltre ogni termine Esattamente Però abbiamo detto Delle cose Molte importanti Abbiamo fatto Alcuni spunti Veramente Determinanti I nostri amici Non ci vengono a dire Che noi Non li teniamo informati Poi se non ci vogliono Seguire Poi già per loro No ma io vorrei dire Un'ultima cosa Vorrei fare una scommessa Che mercoledì prossimo Quando andremo Lì In camera Di consiglio In udienza Altar Sono convinto Che saremo Solo noi Quattro gatti soliti Esattamente E nessuno Di quelli Che si dichiara Nostri amici Interessati Sarà Farà la sua comparsa Neppure neanche Come ectoplasma Quindi Amici Noi comunque Andiamo avanti Per la nostra strada Esattamente Noi Tiremo in anzio Come diceva Esattamente E come diceva Un grande Della letteratura Eroicomica italiana Che ha scritto Il Tassoni Che ha scritto La secchia la vita A un certo punto Avviene Un certo fatto Dove dice Che quelli Scappano Chi va di là E chi va al cesso E allora andranno al cesso Ma noi rimaniamo lì Ma noi rimaniamo lì Ok Ciao a tutti E alla prossima occasione